Ci saranno varie iniziative che poi verso le 19 e 30, adesso naturalmente vi dico che ringraziamo tutti i piloti presenti quest'oggi e anche i loro amici, gli assistenti, tutti quanti, diciamo, è la premiazione delle propositions del Camionato italiano a velocità. C'è un bubito per Ivan Clementi, Federico Biaggi e Mirko Zarpon, di presentarsi al Parco di Giro. Perchè vediamo Ivan Clementi, Federico Biaggi e Mirko Zarpon, di presentarsi al Parco di Giro. Sì, ma erano due volte perché la ragazza ha messo la foto di Giro, ma l'altra, perché che fa queste, perché fanno solo un giro, sono... Nella prima del 1, con Sebastiano Gocisero, alla guida, il programma rispetto all'orario ufficiale della manifestazione del 3, se non ci sono ulteriori problemi, quindi siamo tranquilli con lo sfruggimento qui in Camina, con noi dal Corso di Giro, Giancarlo Falacca, i leonaniesi, vi facciamo un saluto, ciao Giancarlo, poiché due battute, agli appassionati, sono voluto oggi qua sull'autonomo, domandiamo per vedere i cifre che è in trasciuto, uno spennacolo veramente di attività, adesso è stato un po' di prea. Grazie Giancarlo.